Esercizi e consigli utili. Aggiungi il video ai preferiti, ti guiderà quando ti alleni. Prossimo esercizio, stretching cervicale. Via! Fai attenzione a mantenere la schiena dritta e ferma. Effetto il movimento solamente con il capo. Non sforzare le spalle, mantieni le sempre basse e rilassate. 5, 4, 3, 2, 1, stop! Prossimo esercizio, posturale spalle adotte. 3, 2, 1, via! Non forzare la spinta. Fermati quando sei al limite. 5, 4, 3, 2, 1, stop! Prossimo esercizio, stretching cervicale. Non spingere eccessivamente con la mano. La pressione deve essere leggera e costante per evitare problemi. 5, 4, 3, 2, 1, cambia lato nel minor tempo possibile. Via! Grazie a tutti. 5, 4, 3, 2, 1, stop. Prossimo esercizio. Stretching spalle. 3, 2, 1, via! Non tirare il braccio troppo velocemente, esegui un movimento fluido. 5, 4, 3, 2, 1, cambia lato nel minor tempo possibile. Non forzare eccessivamente la spalla. Fermati prima di sentire dolore. 5, 4, 3, 2, 1, stop. Prossimo esercizio. Stretching deltoidi. 3, 2, 1, via! Non forzare il movimento. Fermati quando la spalla ha raggiunto la sua massima tensione. 5, 4, 3, 2, 1, cambia lato nel minor tempo possibile. Non ruotare il busto. Le spalle sono sempre rivolte in avanti. 5, 4, 3, 2, 1, stop. Prossimo esercizio. Stretching tricipiti. 3, 2, 1, via! Non esagerare con la spinta. Fermati se senti dolore. 5, 4, 3, 2, 1, cambia lato nel minor tempo possibile. Via! Non inarcare la schiena quando porti dietro il braccio. 5, 4, 3, 2, 1, stop. Prossimo esercizio. Stretching ad ambracci e bicipiti. Prossimo esercizio. 3, 2, 1, via! Le mani sono all'altezza delle spalle. 5, 4, 3, 2, 1, cambia lato nel minor tempo possibile. Via! ... 5, 4, 3, 2, via! 6, 5, 4, 3, 2, via! 5, 4, 3, 2, 1, stop. Prossimo esercizio. Stretching braccia, spalle e pettorali. 3, 2, 1, via! Fai attenzione a non piegare la schiena. Per aiutarti, guarda un punto di fronte a te. 5, 4, 3, 2, 1, stop. Prossimo esercizio. Stretching polpacci. 3, 2, 1, via! Non piegare la schiena. Tienila sempre ben dritta. 3, 2, 1, via! 5, 4, 3, 2, 1, cambia lato nel minor tempo possibile. Via! Fai attenzione a non piegare la gamba per non diminuire l'efficacia. 5, 4, 3, 2, 1, stop. Prossimo esercizio. Stretching quadricipiti. 3, 2, 1, via! Il ginocchio della gamba posteriore non deve toccare il suolo durante l'esercizio. 5, 4, 3, 2, 1, cambia lato nel minor tempo possibile. Via! La gamba posteriore deve essere ben distesa per allungare il quadricipite. 5, 4, 3, 2, 1, stop. 5, 4, 3, 2, 1, via! Prossimo esercizio. Stretching femorali. 3, 2, 1, via! Non piegare le gambe durante tutto l'esercizio, così da mantenere costante l'efficacia. Non piegare il busto, tienilo sempre ben dritto. 5, 4, 3, 2, 1, stop. Prossimo esercizio. Stretching femorali. 3, 2, 1, via! Non piegare le gambe durante tutto l'esercizio, così da mantenere costante l'efficacia. 5, 4, 3, 2, 1, cambia lato nel minor tempo possibile. Via! Non piegare le gambe durante tutto l'esercizio. 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 5, 4, 3, 2, 1, stop. Prossimo esercizio. Allungamento lombare. 3, 2, 1, via! Fai attenzione a non piegare le braccia durante tutta la sequenza. Esegui tutti i movimenti lentamente, in modo da evitare problemi alle articolazioni. 5, 4, 3, 2, 1, stop. Prossimo esercizio. Allungamento schiena. 3, 2, 1, via! Non guardare davanti. Rilassa il collo portando la fronte alle ginocchia. Non piegare le braccia. Tienile sempre ben distese. 5, 4, 3, 2, 1, stop. Prossimo esercizio. Stretching glutei. 3, 2, 1, via! Porta le braccia in avanti per un maggiore equilibrio. Non inarcare la schiena. Contrai l'addome per riuscirci. 5, 4, 3, 2, 1, stop. Prossimo esercizio. Stretching femorali. 3, 2, 1, via! Non piegare la schiena per raggiungere più facilmente i piedi. Tienila sempre ben dritta. 3, 2, 1, via! Non piegare la schiena per raggiungere più facilmente i piedi. 5, 4, 3, 2, 1, stop. Prossimo esercizio. Stretching glutei. 3, 2, 1, via! Non piegare la schiena per raggiungere più facilmente i piedi. Non piegare la schiena per raggiungere più facilmente i piedi. Non piegare la schiena per raggiungere più facilmente i piedi. Non piegare la schiena per raggiungere più facilmente i piedi. Non piegare la schiena per raggiungere più facilmente i piedi. Non piegare la schiena per raggiungere più facilmente i piedi. Non piegare la schiena per raggiungere più facilmente i piedi. Non piegare la schiena per raggiungere più facilmente i piedi. 5, 4, 3, 2, 1, cambia lato nel minor tempo possibile. Via! Via! 5, 4, 3, 2, 1, stop! Prossimo esercizio. Allungamento lombare. 3, 2, 1, via! Fai attenzione a non sollevare da terra glutei e spalle. Tieni di sempre ben saldo il pavimento. Esegui i movimenti lentamente in modo da evitare problemi alla schiena. 5, 4, 3, 2, 1, stop! Prossimo esercizio. Allungamento lombare, ginocchia al petto. 3, 2, 1, via! Attenzione, non sollevare la zona lombare durante tutta la sequenza. 5, 4, 3, 2, 1, stop! 5, 1, stop! 5, 3, 2, stop! Grazie a tutti